Rendere omaggio a Lucio Dalla, augurare un felice Natale, ricordare che la ciocceria è una terra, tra le altre cose, piena anche di artisti e nel frattempo far correre dalla schiena alla punta dei capelli quel brivido che solo la musica sa regalare. Tutto in un colpo solo. È quanto hanno creato oltre 40 tra cantanti e musicisti della provincia di Frosinone attraverso l'arrangiamento del maestro Leonardo Raponi su impulso di Luca Leoni dell'associazione culturale Luma Recording Studio. L'unione tra le migliori voci del territorio e di migliori musicisti ha portato alla creazione di un video, divenuto in pochi giorni virale sul web. Un video in cui archi, percussioni, fiati, chitarre e voci riproducono uno dei capolavori senza tempo di Lucio Dalla, Futura. Abbiamo deciso di dar vita a questo progetto, ha spiegato Luca Leoni, innanzitutto per lanciare un messaggio di unità in una provincia troppo spesso divisa da questioni campanilistiche che frenano la crescita. Un messaggio di unione e legame quindi che nelle intenzioni dell'ideatore può rappresentare uno stimolo per tutti. E poi l'omaggio ad un uomo, ad un artista, ad un genio che ha segnato la musica e le vite anche di chi non l'ha vissuta direttamente come Lucio Dalla. Futura è una canzone che parla appunto di un domani migliore, del futuro delle nuove generazioni e la scelta è stata proprio decisa dal momento che viviamo. Un messaggio, ha spiegato ancora Leoni, con i migliori auspici per il Natale in una fase così complicata della storia, attraverso un omaggio vero, sentito, ad un artista come Lucio Dalla. Il video, pubblicato sul canale YouTube della Luma Recording, ha già raggiunto circa 3.000 visualizzazioni. Tutti, ha detto ancora l'ideatore, hanno accolto le finalità di questo progetto in maniera spontanea, genuina ed è venuto fuori un lavoro che ci inorgoglisce. Non posso fare altro che ringraziare quanti hanno collaborato. Questo territorio ha tanto da esprimere e noi abbiamo deciso, conclude Leoni, di dare un contributo in tal senso. Grazie a tutti.